Da giovedì 28 settembre con il voto in assemblea convocata al Cinema Apollo di Ferrara, la cooperativa sociale CIDAS ha sancito la fusione per incorporazione della cooperativa sociale Le Pagine, una decisione che consentirà di rendere effettiva la fusione a partire dal 1 gennaio prossimo. Il progetto avviato ancora nel 2022 dai rispettivi consigli di amministrazione, dopo un percorso di condivisione con i soci, è approdato lo step finale con l'approvazione nelle rispettive assemblee delle due cooperative. Con questo atto, commenta durante l'assemblea il presidente di CIDAS, Daniele Bertarelli, si andrà ad ampliare il raggio d'azione della cooperativa sia dal punto di vista dei servizi offerti che dal punto di vista territoriale. La nuova CIDAS racconta più di 1800 lavoratori, di cui circa 1200 soci, con un fatturato previsto nel 2024 di 72 milioni di euro.